Parliamo oggi di finanza e di impresa. Per farlo abbiamo invitato in studio Francesco Butteau di Apogeo Consulting del gruppo Azimut. Benvenuto signor Butteau. Intanzitutto vorrei una presentazione dell'azienda che lei oggi qui mi rappresenta. Con piacere due parole ad Apogeo Consulting che io rappresento. È una società dedicata alla gestione delle esigenze patrimoniali e finanziarie di clientela di alto livello. È una divisione del gruppo Azimut. Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito in Italia. Quindi il nostro core business è la gestione appunto del risparmio. È quotata la borsa di Milano nell'indice Fuzimib che rappresenta le 40 aziende di maggior capitalizzazione. 2012 è stato un anno eccezionale perché è stato l'anno in cui l'azienda ha fatto la migliore performance con più 80% quasi di valore. Anche il 2013 è stato un anno positivo, più 70% e credo che questi dati sono dovuti al fatto che Azimut ha saputo accogliere i cambiamenti macroeconomici ed essendo appunto un'azienda indipendente ha potuto adottare le scelte vincenti che sono quelle dell'internazionalizzazione. Quindi con diverse partnership oggi da un'azienda italiana è diventata un'azienda internazionale con sede in quasi tutto il mondo. Un'azienda che opera all'interno del mercato, quindi strettamente legata anche a questo periodo di crisi. Ed in questo periodo di crisi come Apogeo Consulting sta cambiando? Quali sono i mutamenti che avete adottato per andare incontro agli aziende proprio in questo periodo? Ecco, appunto da questa crisi si è colto l'opportunità di venire incontro anche in esigenza delle imprese tramite dei finanziamenti e tramite il progetto Libera Impresa con 5 programmi per il momento poi verranno implementati che consentono di accompagnare le aziende dalla loro nascita fino per quelle che avranno i numeri alla quotazione in borsa. Quindi parliamo di un percorso dallo start-up alla quotazione. Può portarci un esempio pratico? L'esempio pratico può essere quello di un neolaureato che ha un'idea vincente nel settore tecnologico dell'innovazione che però non ha le risorse finanziarie con difficoltà anche di rivolgersi al settore bancario per ottenere dei finanziamenti. Un caso del genere verrà analizzato dai nostri studi e quindi con un'erogazione che può essere dai 100 ai 450 mila euro il soggetto avrà possibilità di avviare la propria attività. Se poi questa attività avrà successo entriamo nella fase 2 in cui l'azienda ha bisogno di consolidamento e in questo caso il finanziamento può arrivare dai 500 ai 2 milioni e mezzo. Bene, quindi un sostegno, una presenza, una vicinanza alle buone idee e a coloro che hanno voglia di far crescere l'innovazione e le imprese proprio nel territorio. Inz'altro. Grazie per averci spiegato i vostri progetti e ad aver presentato l'azienda Apogeo Consulting. Quindi grazie a Francesco Buttò per essere stato nostro ospite in studio.